Quel posto è per te. Eddie e Oscar sono su un autobus. Sono molto stanco. Sì, anche io sono stanco. Ah, c'è solo un posto libero. È per te. Tu sei più vecchio. Non ti preoccupare. Cosa? Sono solo un po' più vecchio di te. Sì, ma tu hai già qualche capello bianco. Anche tu hai qualche capello bianco. Veramente? Dove? Quel posto è per te. Sei molto stanco. Non è vero. Ho molta energia. Vado in palestra ogni giorno. Sei stanco perché vai in palestra ogni giorno. Devi riposarti. Oscar, quel posto è per te. No, è per te. Un adolescente arriva. Perfetto. C'è un posto libero per me. Ogni giorno. Energia. Palest. Stanco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' vero. Grazie a tutti. Grazie a tutti